grazie e bentornati su investingguide.crypto in questo video aggiornamento su astroport naturalmente uno dei protocolli di terra luna che abbiamo già resensito e che adesso si avvia proprio perché come potete leggere dalla sovrappressione del video che scorre astrodrop adesso è live quindi andiamo a vedere un attimo come funziona e come poter ottenere probabilmente maggiori informazioni e quindi entrare all'interno per capire un po meglio il tutto naturalmente il tutto funziona sempre collegando il vostro portafoglio con terra station come app browser quindi un'applicazione del browser web di terra station una volta avviate potete vedere subito che potete nel caso in cui abbiate problemi con la lingua inglese cliccate su google translator e vi traduce l'intera pagina potete leggere quello che c'è scritto naturalmente qui l'astroport naturalmente potete ottenere token astro all'abbio naturalmente della fase che si è appena abbiato il giorno 14 quindi questo è il primo giorno e quindi recensiamo il tutto fase 1 deposita e blocca la tua liquidità su terra swap token lp su all'interno di astroport e quindi ricevi in premio dei token di governance che sarebbero di astro il suo funzionamento in questo modo bloccate i vostri token di terra swap lp per una certa durata fissa in cambio otterrete almeno per la prima fase quindi fase 1 vedessi naturalmente dalla cronologia come è possibile visualizzare i token astro come premio più token lp avrai più a lungo i blocchi e più naturalmente riceverai astro in quantità oltre a tale distribuzione astro iniziale chiunque blocchi liquidità su astroport accumulerà anche commissioni di negoziazione emissioni quindi di astro saranno in corso e ricompense doppie ove supportato attualmente non è indicato in dettaglio quali sono le percentuali di guadagno di stake dei vostri lp presenti all'interno di astroport nella fase 2 quindi dal giorno 21 12 bloc astro o anche e usp quindi dollaro terra nella pool di boost strap di astro dollaro terra per ottenere i seguenti incentivi saranno tre un premio aggiuntivo una tantum in token astro che sarà trasferibile al momento del lancio commissioni del pool in corso della pool astro dollaro terra dopo il lancio e incentivi del pool astro in corso i partecipanti che alla fase 1 possono bloccare il loro astro all'interno della fase 2 che inizia il 21 di dicembre gli altri partecipanti possono fare pre reclaim quindi reclamare gli astro dell'airdrop per unirsi alla fase 2 tutta tale liquidità fornirà la pool astro dollaro terra che si sbloccherà in fase lineare nell'arco di tre mesi e quindi al termine della fase 2 l'avvio di astro port e i token astro sbloccati saranno completamente trasferibili bene abbiamo chiarito un po' qual è il concetto base naturalmente potete cliccare qui buy alla fase attiva che sarebbe questo pulsante in alto e vedere naturalmente quali sono le tempistiche come potete osservare la fase 1 finisce tra 6 giorni 19 ore e 8 minuti potete anche scorrere in dettaglio un po' sotto per capire un po' quali sono le indicazioni che ci vengono fornite naturalmente potete fornire liquidità in base a queste coppie chi lo vuole decidere lo farà giustamente dipendentemente anche dalla disponibilità che astro port fornisce come blocco delle criptovalute che vedete non sono eccessive sono quelle che decidono loro e si sta parlando come potete vedere di luna dollaro terra di biluna luna anchor dollaro terra mir dollaro stt dollaro terra main apollo psa e bkr e orion per esempio non c'è luna ether per esempio o luna bitcoin per mettere in blocco ci sono naturalmente delle considerazioni da fare per chi avesse per esempio alcune criptovalute che non sono qui presenti è chiaro che non otterrà non avrà fatto diciamo questa questo beneficio da questo protocollo astro port appena nato o avviato e quindi questo credo che sia tutto per quanto riguarda la spiegazione del funzionamento di astro port e credo che questa volta sia stato abbastanza chiaro perché comunque come potete osservare non ci sono molte informazioni anche all'interno dello stesso sito che sembra un po' scarno anche di coppie di valute né di e fornitore dell'api o di altre informazioni non sono molto indicata all'interno della di astro port quindi abbastanza scarno spero di esservi stato utile se avete naturalmente richieste o commenti non lesinate a scrivere dall'interno del canale un like è sempre gradito per sostenerlo e se non l'avete fatto iscrivetevi attiva della campanellina per poter ricevere aggiornamenti periodici dall'interno del canale grazie ciao e alla prossima